Il giudice sportivo di Serie D ha usato mano pesante per il finale turbolento del verbi cilentano a Gropoli-Gelbison, comprovando quanto accaduto ieri al Guariglia, quando all'ottantacinquesimo e a cinque minuti dunque dalla fine della gara, subito dopo che l'arbitro aveva sancito la vittoria dei Vallesi per la rete di Sene che ha condannato i delfini a rischio play-out, si è scatenata una maxirissa tra i giocatori dei due schieramenti. Un episodio sul quale il giudice sportivo, valutando il fatto, ha dovuto prendere le dovute decisioni. E dunque sono stati fermati per due turni il portiere dell'Agropoli, Capozzi, e quello della Gelbison, Spicuzza. Stessa sorte è toccata anche al difensore centrale dei Vallesi, Pascuccio, mentre per l'Agropoli è stato fermato Capozzoli, il quale era stato espulso nel corso della partita. Inoltre alle due società è stata combinata un'ammenda di 400 euro per comportamento irriguardoso dei tesserati. Un vero e proprio scontro, quindi, quello che ha avuto luogo al termine del derby, al contrario di ciò che hanno voluto dichiarare le due società alla stampa, cercando di sminuire l'accaduto. E invece, a giudicare dai provvedimenti del giudice sportivo, si evince proprio quanto ieri era stato trasmesso dagli organi di informazione. Un'avvenuta rissa che ha richiesto anche l'intervento delle forze dell'ordine, costringendo dirigenti e calciatori della Gelbison a non uscire dagli spogliatoi per circa un'ora e mezza, scortati poi da carabinieri prima sul pullman e poi all'uscita della superstrada.